Nel corso della mattinata odierna i carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettore antimafia della Procura della Repubblica di Napoli nei confronti di persone gravemente indiziata del reato di omicidio e dei connessi reati di detenzione e porto di arma da sparo aggravati dal metodo mafioso. In particolare l'indagato il 4 ottobre 2021 a Caivano avrebbe ucciso Natale e Antonio esplodendo tre colpi di pistola che attingevano la vittima alla testa e al torace. L'omicidio sarebbe stato deliberato e premeditato per punire il Natale che avrebbe sottratto armi, droga e denaro al gruppo criminale Bervicato per conto del quale effettuava attività di spaccio di droga. Il cadavere del Natale veniva rinvenuto in un fondo agricolo il giorno 18 ottobre 2021. Il provvedimento ha eseguito una misura cautelare disposta in serie di indagini preliminari avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa persona sottoposta all'indagine e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.